ciao a tutti vi racconterò oggi la storia del prete che manda a fare in culo e veresi in un paesino che si chiama dolegna del collio voglio dal don sandro di 62 anni di cui 30 passati a fare le messe insomma ha deciso di mandare tutti a cagare nel peggiore dei modi insomma ha detto la messa è finita andate fanculo bene non si sa che cosa gli abbia provocato questa crisi ma si sa che prima di questa crisi è diventato tutto rosso insomma e la gente vicino a lui chirichetti si sono delle guati a questo per i feticisti del dello star noto sarà proprio un amore comunque scusate lo star noto non me l'aspettavo altrimenti avrei cercato di non scaracchiare tutto davanti a voi così dunque questo individuo ha mandato a fanculo tutti ed è uscito proprio di fretta dalle navate e anche sbattuto la porta c'è andata a fanculo una volta c'era la pubblicità egoist egoist e lui ha fatto una cosa simile no ma insomma don sandro se mi senti no dai guardiamoci da credente a mis credente cattiva atia di merda come vuoi chiamarmi ma che cosa ti hanno fatto quei poverini e qualcuno che ti ha provocato da illo a mamma su e poi comunque la ziale è sempre disposta a sentire le tue ragioni e neanche prendendoti un po per il culo cioè proprio mi metterò lì no mi prenderò un calmante doppio e non ti prenderò per il culo allora adesso saluto don sandro che spero non sia più arrabbiato e tutti i feticisti dello starnuto ciao